Il Tindery Festival inizierà con uno spettacolo di danza. Si aprono le danze a Tindery, siamo qui con l'ediatrice del primo spettacolo. Lo vogliamo presentare perché è qualcosa di particolare. Sì, è qualcosa di particolare perché riunisce sei coreografi e quindi sei linguaggi coreografici con un unico tema, il tema dell'abbraccio. Infatti il titolo dello spettacolo è Abbraso in portoghese. È affrontato in vari modi. Abbiamo debuttato ieri sera con grande successo alle Orestieri di Gibellina e speriamo di continuare quest'onda di successo e anche il pubblico ha gradito tantissimo. Come nasce l'idea di unire sei coreografi internazionali? Non solo sei coreografi internazionali ma anche unire soprattutto dei danzatori perché il progetto nasce, essendo io ad averlo pensato a Palermo, coinvolge 12 giovani danzatori siciliani però c'è una collaborazione artistica con l'Eco Dance International di Pompea Santoro, di Torino, MM Company, Agora Project di Reggio Emilia, Introdance che è una compagnia olandesi e Fernando Suel Mendoza che è un danzatore della compagnia di Pina Bausch. Siamo qui con due dei coreografi di questo spettacolo. Presentiamoci. Allora io sono Enrico Morelli, sono uno dei sei coreografi che ha preso parte alla creazione di questo spettacolo e per me è stato subito un onore accettare la richiesta di Santina soprattutto perché ha avuto il coraggio di affiancarmi a dei nomi della coreografia che sono il top attualmente nel panorama della coreografia europea e mondiale e quindi per me è stato appunto un onore accettare e l'idea poi soprattutto di avere a che fare con dei giovani perché io ho montato una coreografia per un gruppo di ragazzi palermitani che sono stati selezionati da Santina e da Michele Merola che è un altro coreografo che ha preso parte a questo progetto. L'idea appunto di lavorare con questi giovani ragazzi per me era molto molto allettante perché insomma era un modo per mettermi anche alla prova. In più appunto l'idea di presentare la mia coreografia all'interno di uno spettacolo in cui c'erano coreografi come Fernando che insomma sono molto famosi nel panorama internazionale era ovviamente una cosa a cui non potevo assolutamente dire di no. Lavorare e unire assieme sei spettacoli sei balletti diversi cosa vuol dire? Come si può legare uno spettacolo all'altro soprattutto visto che siete sei coreografi molto diversi fra di voi? Devo dire che fra tutte le cose che abbiamo dovuto affrontare nella costruzione di questo progetto questa è stata di sicuro la cosa più difficile da realizzare perché appunto mettere insieme sei idee diverse di uno stesso concetto che appunto quello dell'abbraccio e trovare l'accordo comune fra tutti i vari coreografi ovviamente è un percorso molto difficile. Ovviamente ad aiutarci c'è stato un regista che è tessitore che ci ha dato una mano, io e Santina poi ci siamo riuniti in conclave per capire appunto come cucire le varie coreografie ma credo che la marcia in più appunto che ha questo spettacolo è proprio questa idea cioè quella di creare un unico spettacolo nonostante ci siano più mani. È stato appunto un processo molto difficile però credo che insomma il risultato sia abbastanza positivo. Ieri ne abbiamo avuto la conferma a Gibellina. Poi se la gente appunto domani verrà a vedere potrà apprezzare questo lavoro che è stato decisamente interessante ma particolarmente difficile. E siamo con un altro dei coreografi che è anche uno dei ballerini in uno di questi sei spezzoni che compongono a Braso. Buongiorno, il mio nome è Fernando Svels. Io direi che basicamente io sono danzatore e forse sono io uno che ha un po' meno di esperienza diciamo come si parliamo della coreografia. Io penso che questo progetto per me è una grande possibilità perché Santina ha creato questo spazio dove diciamo si mischiano tante cose, tante esperienze diverse. Per esempio questo fatto di avere della gente giovane che sta danzando, di altri danzatori che siamo un po' meno giovani e di queste sei coreografi anche ci sono dei nomi che sono dei grandi nomi come Mats Ek. È un onore anche partecipare a un'esperienza così. Santina ha creato anche la possibilità di creare questo spazio, di dare questo spazio per esempio per me è una grande possibilità perché io sto cominciando da poco a fare un po' dei miei lavori. Io penso che non mi posso chiamare ancora coreografo ma mi sto divertendo con questa cosa. È bello di avere avuto la possibilità di questo spazio per la creazione e allora è un progetto che molto c'è tutto lì dentro, ci sono i giovani, ci sono i grandi, ci sono i grandi nomi, ci sono quelli che cominciano, c'è una cantante, c'è una pianista, allora è proprio un contenitore di tante energie e di tante manifestazioni diverse. Grazie. 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 Grazie.